Tanta gente, però, come soldi, come spese, pochissimo ancora. O sono senza soldi, non so, hanno paura, cercano di risparmiare, di tenere da parte, hanno paura di un ritorno, forse, non so, speriamo di no, perché da come siamo messi adesso, che eravamo prima, abbiamo solo peggiorato, praticamente, speriamo che si riprenda, spero almeno a settembre, ottobre, sicuramente nei mesi più invernali, sempre che non accada qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.